BTM 2024, siamo alla Fiera del Levante nel padiglione di Fonditalia. Qui con me il responsabile commerciale della Investing in Lung, Giuseppe Bombacigno. Benvenuto Giuseppe. Grazie a voi. Giuseppe, questa azienda è stata beneficiare di percorsi formativi finanziati da Fonditalia. In particolare anche tu, se non ricordo male, hai proprio beneficiato di questi percorsi. Assolutamente sì, tutti. I dipendenti della Investing in questo corso di formazione che abbiamo fatto, molto interessante, è stato organizzato da Fonditalia. La particolarità che abbiamo fatto online, quindi abbiamo avuto l'opportunità di non collegarci sia a chi era in smartphone, anche in quel posto, che eri in ufficio, o anche in giro di bloccarci e poter partecipare al corso di formazione. Interessante il fatto che ci hanno dato l'opportunità di farlo sia in modalità sincrona, che in modalità sincrona, quindi questa cosa significa andare incontro anche alle esigenze aziendali. Quindi non fare molto più troppo, perché non è tutto lo staff di persone che si deve spostare, ma in realtà ci fermiamo in quel momento, in qualsiasi posto in cui ci troviamo e possiamo sfruttare di questi concorsi che sono comunque molto interessanti, per cui hanno abbracciato tutto il tessuto aziendale, quindi da quello che può essere il responsabile commerciale o il commerciale, da noi che andiamo in giro, ma anche a quelli che erano gli assistenti soft e piuttosto che gli stessi curati. Quindi è stato interessante, anche molto interessante. Da un punto di vista di beneficiario della formazione, sia da un punto di vista aziendale che da un punto di vista proprio di scelta, di partecipare, consiglieresti ad altre aziende e anche ad altri lavoratori di partecipare a percorsi formativi di Conte Italia? Ma assolutamente sì, per i motivi che ti ho citato poco a Cazzo. Secondo il mio modestissimo parere, dobbiamo sfruttare di questi tipi di situazioni. È fondamentale farlo, abbiamo i fondi per poterlo fare, il Fond Italia ci dà una mano in questo e io ritengo che tutte le aziende dovrebbero cercare di accedere a questi posti di formazione. Io l'ho consigliato ad altri miei amici imprenditori che hanno deciso di aderire e anche lo stesso mondo invest delle aziende che circolano intorno a noi, e noi stiamo cercando comunque di portarle a questo miglioramento perché alla fine non è altro che altro un miglioramento di quelle che sono le performance di Sicuramente.